Buonasera, buon pomeriggio a tutti, io salgo su questo palco con due o tre difficoltà, prima come si diceva sono quello dopo la pausa e quello prima della fine infatti si vede, secondo doveva venire il mio socio, quindi la presentazione è la sua, quindi alcune cose non le ricorderò ma sopperirò con una carica di simpatia incredibile, comunque ci terza che come leggete quella sigla lì CTO che io tanto odio, io sono fondamentalmente uno sviluppatore di software e voi sapete che gli sviluppatori non parlano con la gente, stanno chiusi in una stanza, cuffie e tipicamente quando qualcuno si rivolge a noi, che c'è? Per cui cercherò come dire di tirar fuori altre cose, però sono uno dei due fondatori di questa società e vi parlerò di qualcosa di un po' particolare che è l'opportunità che nessuno ancora accoglie, di fare marketing, comunicazione e di conseguenza business, numeri, mentre la merce è ancora in viaggio, cioè la merce, parlando di un merchant, è uscita dal magazzino, da quello che è dell'e-commerce e sta per arrivare a casa dell'acquirente finale, quello che noi chiamiamo, probabilmente non l'abbiamo inventato noi, l'ultimo miglio dell'e-commerce. Vediamo un po', ecco, questa mi ricordo. Cosa fa l'e-commerce tipicamente dopo la spedizione? La nostra storia è di Roberto che noi eravamo degli piccoli e-commerce già nel 98, quindi quello che diciamo è per cognizione di caso, c'eravamo un piccolo e-commerce già nel 98-99. Tipicamente ai tempi e per la grande maggioranza ancora di molti e-commerce che approcciamo, che non seguono, che non hanno magari problemi di branding come Luisa Veroma prima, cioè che vogliono comunque garantire un certo livello di comunicazione successivamente alla spedizione, una volta che tu hai preso l'ordine, hai fatto il pacchetto, hai chiamato il corriere, che come dico sempre è una società esterna che abbiamo chiamato tipicamente che era quella che costava meno e alla quale affidiamo appunto l'ultimo momento di esperienze di acquisto del nostro acquirente. Io racconto sempre che la mia mamma compra su Amazon, peraltro con la mia carta di credito, i regali per le mie figlie e lei sta, adesso si è abituata, però all'inizio stava alla finestra, cioè proprio alla finestra aspettando il corriere, cioè quando l'app di Amazon diceva in consegna, mia mamma non ci credeva e stava lì. Quindi l'atteggiamento ancora molto diffuso è, vabbè io ho dato l'amenace al corriere e ci pensano al corriere, cioè io il mio l'ho fatto, ho fatto il sito bellissimo, le schede prodotte bellissime, i prezzi bellissimi, la SEO bellissima, il gamification, tutte quelle robe lì, di cui avrete parlato sicuramente oggi, bellissime, ho venduto, ho spedito, ciao a tutti. Cosa fa invece il cliente? Questa potrebbe essere la mia mamma, è questo tipo di attesa, arriva, sta arrivando, posso saperne di più, posso essere rassicurato e se poi non sono a casa e se poi piove, arriva sto pacco che alla fine ho deciso di comprare online e mi fido anche poco del fatto che arrivi, veramente. Ripeto che queste sono le zone del mio socio, che fa queste cose qua che per me sono totalmente incomprensibili. Però questo è già più nelle mie corde, che racconta, è un fumettino che racconta esattamente quello che succede. Ah ho comprato, perfetto, mi sono deciso, ho uscito la carta di credito, eccetera, eccetera, e però adesso pazientemente aspetto. Invece tipicamente, poi una cosa che ripeto sempre, perché noi ci occupiamo di e-commerce, è che abbiamo una tendenza a pensare che tutti sanno come funzionare l'e-commerce, sanno come funzionare le carte di credito, i corrieri, oppure che sia una questione d'età, che la mia mamma che ha 70 anni, corrieri, carte di credito, invece mi trovo ad avere a che fare avendo delle figlie, quindi conoscendo altri genitori, peraltro io sono un papà anziano, genitori diciamo millennial o 25 anni, 30 anni, che anche per loro il concetto di corriere o il fatto che i corrieri si chiamano birre tu, nexiv, quello più, mi sono sempre chiesto come me sono di tre caratteri quelli dei corrieri. Per noi, se voi vi occupate di e-commerce, se siete acquirenti, sono sigle normalissime. Per la gente normale che sta entrando sempre più, i numeri ce lo dicono nell'e-commerce, è tutta un'esperienza ancora nuova da fare, no? Devono capire che ci sono diversi corrieri, che hanno diversi numeri di telefono, che hanno diversi furgoni colorati in modo diverso, eccetera, eccetera. L'atteggiamento è ancora questo qui, ma anche dopo il primo acquisto è largamente diffuso. Ripeto, sono serena, il corriere non c'era nessuno in casa, vi consiglio di cercare su YouTube il video del mio socio, lui qua fa tutte le storie, insomma, vi ricordo, io sono sviluppatore, sono più pragmatico, nessun problema. Ecco, controllo della, in più sono anche molto raffreddato per cui sto tenendo su, e non ho messo l'archetto con la cuvia perché ho paura di starnutire di far saltare tutto. Quindi se mi giro starnutire non vi preoccupate, mi giro. Controllo della situazione, questo è il nostro pannello di Kapla che permette, se un merchant, un e-commerce ha tutte le spedizioni, di avere sotto controllo tutto quello che accade e dare subito una risposta a un cliente. Poi lo vedremo meglio, più velocemente in realtà ne parliamo poco di Kapla, 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 ma parliamo delle opportunità che ci sono e che Kapla aiuta. Con la situazione sotto controllo la risposta non è, mio Dio, vedremo, le faccio sapere, chiami il corriere a questo numero che non è nemmeno un numero verde e fornisca al corriere questo numero di 15 cifre, che è il numero della sua spedizione. La mia mamma, il numero di 15 cifre, ma non solo la mia mamma. Niente starnuto. Con la situazione sotto controllo, tramite Kapla, si può cominciare a infondere già a livello di customer care, ma poi vediamo altre cose molto più significate, quella sensazione di sicurezza che il cliente vuole. Perché questa è una foto tipica, io abito in un paesino del nord Italia e di questi cartelli qui, via via che l'e-commerce sta aumentando, se ne vedono sempre di più. Quindi appiccicati fuori per il correre, poi quel giorno lì c'era vento, tra l'altro io questo l'ho raccolto da terra e l'ho rimesso su io, perché c'era vento ed era volato via. Però stanno continuando a succedere queste cose. Questo è un mio socio che voleva far vedere dei classici feedback cliente, che spesse volte lui voleva dire, sono anche i clienti finali che hanno delle aspettative micidiali sulle consegne, gli uguali sono in casa sabato mattina dopo messa dalle 10 alle 15 puoi passare a quest'ora. Allora, l'importante dell'esperienza del cliente dell'ultimo miglio. La customer experience, secondo, è un fattore assolutamente importante, quello del consumatore e lavorare nel customer experience del post-pedizione, che l'ho facciato o meno, il cliente lo ricorderà. Adesso vedremo alcuni esempi. Ah sì, questa cosa qui gli ho telefonato prima, gli ho detto, perché a un certo punto viene fuori un dolce? E lui mi ha detto questa cosa qua, che, attenzione, che quando tu vai a una cena bellissima, bellissima, non ti pasti pazzeschi, primi, secondi, vini, tutto bene, ma il dolce non era un granché, quello che ti rimane attaccato è che sì, cena pazzesca, che è mal dolce. Quindi l'esperienza finale, e qui è l'ultimo miglio, la consegna, è tutto quello, tendenzialmente quello che ci ricordiamo, anche di un'esperienza gradevolissima, come quella di una cena pantagruelica. Di fatto, questi sono alcuni feedback raccolti da alcuni siti, peraltro nostri clienti. è arrivato subitissimo, e attenzione, sono stata aggiornata praticamente in tempo perale su dove fosse. Vabbè, un'altra per l'altra, rifetto come in foto. Abbiamo anche dei feedback audio che il cliente non ci ha autorizzato a utilizzare, dove una signora si chiedeva se noi stavamo facendo lo stalker al driver, perché l'autista sta consegnando, perché noi, come dire, una delle cose che fa Kaplà è avvisarti, guarda che arriva, guarda che sta girando la, dipende il corriere, insomma, e diceva, mi sembra che state facendo lo stalker dei clienti, che mi ha detto che arrivava, sono andato a casa e c'era sotto casa il corriere. Mi è stato un colpo di culo. Però, invece è il contrario. Questo è un sito famoso che vende le domestici, è una catena, non farò il nome, ma ha le lettere M e W dentro nel nome. Ho comprato la nostra oviglia da incasso, non è ancora arrivata, non so nulla, vi ho dato i soldi, ho anticipato con la carta di credito, moriremo tutti, eccetera, eccetera. Questo sito, che probabilmente sulle superfici, visto che ha diverse superfici in tutta Italia, è molto attento, è pieno di questi feedback e quasi tutti non parlano più della qualità del prodotto, ma parlano di in quanto tempo il prodotto è arrivato. L'altro giorno lo stavo notando anche su alcune recensioni Amazon, che banalmente uno va a cercare delle cose e guarda le recensioni. La maggior parte delle recensioni, complimenti Amazon, è arrivato subito, ho capito, ma dimmi se funziona, sto asciugacapelli. No, ho la barba lunga, vabbè, comunque. Parliamo anche di marketing, anche qui gli ho telefonato, lui dice che questo sta per significare che il marketing in questa fase, con gli strumenti adatti, è un territorio inesplorato. Una prateria incolta, tutta da esplorare. Ah sì, questo è interessante, cominciano le cose un po' più interessanti, spero. Questa, mi si dice, è l'apertura media di una newsletter. Prima si parlava nel precedente intervento di quanto le newsletter si continua a dire che siano uno strumento morto, di quanto ancora funzionano, ma di fatto sappiamo che l'apertura media è bassina. Questa invece, con un meravolante effetto grafico, appariranno dopo, sono le aperture medie di un'email transazionale. Poi, attenzione, va pazzo queste cose qua, sto uomo. Un attimo, sapete cosa sono le mail transazionali? Sapete cosa sono le mail transazionali? No. Ma non lo so, io a seconda, tanto lo dico lo stesso. Ops. Posso improvvisare qualcosa? Vabbè, vado avanti. Allora, cosa sono le mail transazionali? Sono banalmente le mail tipicamente automatiche che, per esempio, su uno sistema e-commerce come Magento, PrestaShop, eccetera, eccetera, vengono mandate a ogni cambio di stato di un ordine. Quindi, hai preso un ordine, ti arriva la mail, arriva la mail all'utente finale che ha fatto l'acquisto, grazie per l'acquistato. Se l'e-commerce ha, come dire, la volontà di dire lì dentro che l'ordine è stato spedito, ti arriveranno a me dicendo, ah, gentile, cliente, tuo ordine è stato spedito. Se l'e-commerce è proprio proprio bravo, dice, guarda, il tuo prodotto è stato spedito, con questo corriere, con questo tracking number, clicca qui, eccetera, eccetera. Queste sono le meta-sazionali. Allora, questa è la percentuale di apertura. Una meta-sazionale che, attenzione, arriva, facciamo che voi uscite tutti i-commerce, che arriva dal vostro sito, ok? Col vostro nome, ora, se voi acquistate da qualunque sito che non ha cura a questi particolari, tipicamente arriva, e poi ne vediamo qualcuno, una mail da un tipo VAS servizi e valore aggiunto BRT. Se hai il, se vedi la mail, come tanta gente da mobile, la mail arriva da VAS servizi. Quindi, di chi è questa mail, boh, o se va bene, arriva il tuo ordine numero, è un coso lungo così, non parliamo di Amazon, eh? Lo so, lo so Amazon. È un numerone lungo così che tu, quando hai fatto l'ordine, non è che dici, c'è che mi segno questo numero di 29 cifre, così mi ricordo quell'ordine lì, tra i tanti ordini che ho fatto online. Arrivano delle mail un po' anonime, ma tipicamente queste mail, quando partono, sono mail che l'utente vuole ricerci. Sto dicendo, te l'ho spedito, è in consegna oggi e funziona anche abbastanza bene, come vedete, la mail di consegnato, te l'ho consegnato. Questo poi abbiamo verificato banalmente perché c'è la gente che si fa consegnare la cosa, i prodotti a casa, mentre in ufficio e la mail di consegnato gli serve per avere una maggiore rassicurazione. Quindi, se prima dicevamo che in realtà la newsletter o la mail dedicata è un driver ancora molto potente, ma con tassi di apertura molto bassi, tutte queste mail, se sono personalizzate, se sono facilmente riconoscibili e sono facilmente riconducibili al sito dove ho fatto l'acquisto, hanno tassi di apertura e soprattutto di riapertura. La mail con in consegna, oggi il prodotto in consegna, che tipicamente contiene anche un link a una pagina di tracking dove vedere l'andamento della spedizione, viene riaperta più e più volte, per andare a ricliccarci dentro, fondamentalmente. Scusate. E io che non le ho mai utilizzate, non preoccuparti, non è troppo tardi. In realtà mi ha fatto notare lui, ci sono anche altre chicche in giro. Dico sempre che siccome è lui, lui è l'amministratore delegato, io mi occupo dello sviluppo, lui deve fare queste cose qui, poi in qualche modo io me la cavo. Però purtroppo dovrei cominciare forse a scrivermi una presentazione mia, forse, perché non è la prima volta che mi capita sta cosa. Allora, caro amico ti scrivo. Ah sì, questo è fantastico. Questi sono un po' di esempi di mail di cui parlavo prima, che arrivano, numeri d'ordine, non c'è nessun riferimento a quello che hai comprato, se c'era scritto il tuo skateboard era meglio, ma c'è scritto il tuo ordine, bla bla bla. Questo è già un numero corto. e in questa stessa mail, tra l'altro, che è di un operatore che una grande catena copre nel mondo dello sport, finisce per Tlon, dicono sotto che riceverai una mail dal trasportatore dal trasportatore quando la merce è spedita. È rassicurante, perché so che è stata spedita, secondo me lo è in parte, ma soprattutto secondo me si può fare molto molto meglio. Questa è poi, appunto, la mail successiva. Il corriere lo vedete là in alto, dovreste riconoscerlo, comunque comincia per S e finisce per D.A. È una mail che, appunto, arriva da S.D.A. servizi consegna, espressa. Quindi uno virtualmente, noi lavoriamo a stesso contatto con i corrieri, e una delle cose che mi fa sempre un po' sorridere è che i corrieri pensano di essere un brand. UPS forse, FedEx sì, altri corrieri. Cioè brand nel senso che la gente dice ah ma è in consegna del BRT, allora sono più sereno, queste cose qui. Però vabbè, lo credono loro, io non lo credo, ma c'è gente molto più pagata di me che dice queste cose. Come vedete arriva doppia lingua, perché qui non ho risolto il problema mettendo sette test in sei lingue diverse, così copriamo un po' tutti, basta sparare nel mucchio, eccetera, eccetera, che non fa riferimento né al sito dove abbiamo comprato, cioè non è che dice il tuo ordine alla Decathlon che già ci aiutava, ma fa riferimento a quel numeraccio là, con lettera di vettura, ciù, 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 clicca qui, eccetera, eccetera. Questo è un altro esempio. Hanno qui un esempio con email con doppi riferimenti o tripli riferimenti di ordine. Quindi c'è il tuo riferimento ordine, la tua spedizione, con questo riferimento mittente. Guardate che ci sono molti e-commerce, anche grossi, che quando tu poi chiami, perché la merce non sta arrivando, ti dicono, guardi, chiami corriere e dia questo numero, e ti dettano quella roba là in alto. Quindi tu chiami un numero sempre occupato e devi dettare oppure questo qua sotto, uno sette zero zero, uno, no, com'è sette due a, eccetera, eccetera. E, ripeto, con l'atteggiamento di cui parlavamo all'inizio, per l'ora, no, senta il corriere. Anzi, già che gli do il numero, ha ricevuto una mail con dentro un numero di 25 cifre? Chiami il corriere e dia questo numero al corriere e possibilmente non mi rompa più le palle. Ah, guarda, questo mio socio è fantastico. Tante opportunità. Questo è il modo in cui Kaplan mappa gli stati dei vari corrieri. Dovete sapere che ci sono corrieri che quando vi danno informazioni di tracking, cioè quando andate su una pagina di tracking di UPS, di BRT, di SDA, eccetera, eccetera, la spedizione, quando va bene, è partito in transito, in consegna, consegnato. Quando va bene. Tipicamente non è che non va bene, magari si allunga un po' e abbiamo corrieri che lavorano con mille, mille, duecento stati diversi di descrizione. Noi banalmente tutti gli stati che rappresentano un problema li raccogliamo sotto l'icona problema. Quindi Kaplan cosa fa? Se tu sei un e-commerce che lavora con cinque corrieri differenti, di fatto non è per te importante sapere qual è lo stato che il corrieri ti dice, magari in più lingue, su dove è la merce, ma Kaplan ti dice che è in consegna o che è consegnato. Queste sono opportunità perché se noi leghiamo, odio tutti sarebbe da matti però, a questi stati, quelli più importanti, che tipicamente sono partito in consegna e consegnato, una comunicazione, che sia una mail, che sia un sms, eccetera, eccetera, dedicata al cliente, sono opportunità di cui parlavamo prima. Ma farlo noi, con delle mail carucce, che non siano quegli sprolocchioni di testo incomprensibili, allora io racconto sempre questa cosa di un altro corriere rosso, con il logo bianco su rosso, comincia per B, che manda delle mail fantastici, sono delle mail lunghissime, io non l'ho mai letto, non penso a nessuno di voi, in fondo c'è un link, noi sappiamo che la gente, la gente anch'io, cerchiamo qualcosa da cliccare, da Don't Make Me Think degli anni 90, e c'è scritto sotto, guarda qui c'è un link, qui c'è il tuo tracking, è sotto piccolino, che però sarà valido dalle 9 di domani mattina. Tutti cliccano lì, il corriere, che poverino, di nuovo fa il corriere, io non posso imputare nulla a questi signori qua, ti fa andare su una pagina, che non è che dice, ciao, certo la tua spedizione è nei nostri sistemi, ma partirà domani, sereno. No, ti dice, spedizione non esistente o non trovato, inesistente. Allora, chi usa questo corriere qua, c'ha sto terrore, perché se arrivano queste mail da questo corriere, e dipende dal prodotto ovviamente, se uno vende a rondelle di ferro, magari dall'altra parte non è che, però se uno vende qualcosa di delicato, qualcosa di fashionable, eccetera, eccetera, dall'altra parte la gente comincia a telefonare, a scrivere mail dicendo, mi è arrivata una mail da un certo VAS, servizi a valore aggiunti BRT, che non so chi sia, c'è un link, dove andare a leggere, che mi avete spedito il mio iPhone 10, non lo so, ho cliccato e dice che la spedizione è esistente, bastardi. Questo è quello che succede. Però, ripeto, una bella mailuccia fatta benino, che parte all'omento giusto, che prevede anche questo problema con dei simpatici workaround, e che è personalizzata e personalizzabile, come abbiamo visto, come per la newsletter ovviamente, si parlava prima di newsletter personalizzate, eccetera, eccetera, è sicuramente la cosa migliore, se ti arriva una mail da sito dove hai comprato, che ti dice il tuo nome prodotto, è in consegna, è sicuramente meglio di una mail da un corriere, che tu potresti anche non conoscere, che dice il tuo ordine, così è in consegna. Questi sono alcuni nostri clienti, che hanno personalizzato un po', questa qui si poteva, cioè non è proprio sta cosa, vuole. Però, il confronto ovviamente con la mail che abbiamo visto prima, sprolocchioni di testo, incomprensibili, numeri, più link, eccetera, eccetera, contro, sereno, ah, c'è il mio nome, gentile Luca Cassia, la tua merce è in consegna, stai sereno, cheto, e non scriverci, e non telefonarci nemmeno, tutto a posto. Ah sì, aspetta, anche questo. Allora, questo sa significare che il corriere, che ripeto, ci lavoriamo ormai da tre anni, nel suo intimo però, dice ai e-commerce, ma perché devi andare da questi qui di Kapla, che fa queste cose qua, io ho già tutto, ho la mail, ho l'SMS, le faccio anch'io, questi servizi qui, c'è anch'io, posso mandare la mail, tipo quella di, di cui mi hanno parlato prima, e alcuni si stanno attrezzando anche per fare, mi dicevano l'altro giorno, che si stanno attrezzando per fare le mail in HTML, ho detto, beh, benvenuti al nuovo secolo, complimenti, no, perché l'impatto, vabbè, mi dico solo che alcuni corrieri, l'IT, lo chiamano ancora CHED, CHED si dice negli anni 70, quando c'erano le schede perforate, ok, che proprio era il centro, ci mandavano le schede a elaborare, al centro di elaborazione, si chiamano ancora CHED, e dico, come dico sempre, mentalmente, nel DNA sono un'attacca sopra la schede perforata, questo lo dico da sviluppatore, allora, ovviamente il corrieri dirà, ma no, ma poi, cioè, ci credono, cioè loro sono intimamente, no, ma io la mail la faccio, c'è mail e mail, signore, c'è SMS, SMS, se arriva una mail da Brut, e se arriva una mail da mio sito, sono due cose, o scusate, un SMS, sono due cose completamente diverse, infatti, la mia identità, e poi i clienti sono miei, non sono tuoi, tu stai facendo per me un servizio per il quale ti pago, stai facendo un servizio di consegne, non ti ho ceduto, ciò per adesso, il problema dell'accessione dei dati, però non ti ho ceduto, la proprietà, quindi tu che ti iscrivi, a me non, potrebbe non piacermi, Allora, opportunità commerciale, quando noi mandiamo una mail, fatta benino, che vuole essere aperta, che il cliente vuole ricevere, che non vede l'ora di ricevere, esistono una pletora, come nei newsletter, di opportunità commerciali, che vanno dalla banalissima, scontone del 10%, se mi fa il riordine, ma con alcune esperienze, poi ci saranno alcuni numeri di analytics, che io odio analytics con tutto me stesso, per cui vi lascio lì da guardare, faccio il sviluppatore, queste cose di numeretti, che dimostrano come un canale totalmente non presidiato, può essere sia pennellato di colore, dando l'impressione al cliente finale, al nostro cliente, che noi stiamo governando la fase di spedizione, ok, ma siccome una mail che l'utente vuole ricevere, e che riapre, ci dà la possibilità di essere molto più creativi, nel fornire opportunità di acquisto, da upselling a cross-selling, non solo lo scontone, insomma, di fatto noi con alcuni clienti abbiamo lavorato con un software di recommendation, che banalmente analizza gli acquisti fatti sul sito, che propone dei prodotti inerenti, e la cosa sta funzionando. Opportunità commerciale, qui facciamo vedere un po' di mezzo, insomma, ve lo potete immaginare, oggi si è parlato solo di marketing, dicevo, dal banale sconto all'escrizione alla newsletter, ha l'opportunità di interazione, un cliente che è sensibile ai feedback, quelli certificati, sta ottenendo un buon successo, chiedendo feedback, ma come fa Amazon? Banalmente appena la merce è arrivata, e dice, guarda ti è piaciuto, eccetera, eccetera, e stanno aumentando tantissimo le sue stelline, e lui è molto felice. Su Kaplava, c'è la possibilità di fare tutte le mail personalizzate che potete immaginare, i clienti apprezzeranno, servizio eccellente, questi sono, giuro sono veri, diversi sms e mail con informazioni riguardo all'ordine, e consegnamento ai tempi spriviti, prodotto ben convenzionato, vedete che non parlano del prodotto, cioè nessuno, ma io vi sfido, c'è stasera anche su Amazon, guardate quanti feedback a 5 stelline, le prime due righe parlano della consegna, della velocità di consegna, di quanto era bello il pacco, eccetera, eccetera, del prodotto poi dopo, tipo sono quelle con tre stelline, due stelline, tipicamente. Page view, questa è una tipica pagina di tracking, di un corriere, quello là rosso, è la sua, fanno il loro mestiere, i corrieri spediscono pacchi, buona lì. Perché invece non avere una nostra pagina, nostra intendo io come e-commerce, una nostra pagina di tracking, perché portare page view ha una società esterna. Perché? Il cliente è nostro, abbiamo dato delle mail, perché oltre a fare quella piccola magia della mail, non la facciamo anche sulla pagina di tracking, con tutte le sue form, forme, ed è questa è una pagina standard su, ah ho sbagliato tasto, scusa, è una pagina standard, di quelle standard su, su Kplapa, ci sono diversi template, fino alla personalizzazione completa, ho fatto qualcosa io? no, ho fatto qualcosa tu, è tornato. Ok, oltre vi stavo dicendo, alla meta stazionale, c'è la pagina di tracking, ovvero quelle pagine che gli utenti continuano a rifresciare durante la giornata, per vedere se la merce in consegna o arriva. Se la pagina è quella di un corriere, noi sappiamo quanto è difficile portare un cliente, comunque sulle nostre pagine, dobbiamo essere bravi, allora lì probabilmente ci vorrà venire, perché vuol sapere dove è la sua spedizione, se siamo bravi, e abbiamo uno strumento, che vi permette, siamo noi, che vi permette di fare tutto quello che volete su quella pagina di tracking, non solo gli state fornendo un'informazione che vogliono, ovvero la merce in arrivo, la merce in consegna, eccetera, eccetera, ma se siamo bravi, possiamo avere, portare utenti sul nostro sito, ce li portiamo, e signori, è fondamentalmente tutto, tra virgolette, gratis, nel senso che, stiamo mandando mail, di un prodotto già acquistato, a gente che le vuole ricevere, che le vuole aprire, e che ci clicca, ok? Questo è uno dei pannellini dentro Kapla, e ci fa vedere che la mail, quella di in consegna, ancora lì, è stata riaperta sette volte, e le riaperture medie di quelle mail sono molto elevate, ok? E anche la pagina di tracking pubblico, è stata visitata due volte da mobile, e vedete che la pagina visitata, è ovviamente quella in consegna, dove stavamo dicendo, che lo status era in consegna. Vabbè, questo è per vedere, che alcuni nostri clienti, non necessariamente, devono usare le cose sul nostro sito, ma possono, con i nostri fantastici tool, web service API, possono integrare tutto al loro interno, quelle sono le nostre tipiche concine, e questo sito, ha deciso, con quattro righe di codice, di inserire la pagina di tracking, al suo interno. Tipicamente quello che fa Kapla, è quello di farvi registrare, un dominio di terzo livello, quindi tracking.nome sito, ma volendo anche www, ci dipende, e noi facciamo finta di essere voi, fornendo i dati di tracking, ok? E lì, come abbiamo visto prima, se siamo bravi a dire, ma no, hai visto che è uscita la nuova collezione, di figurine, clicca qui, possiamo probabilmente, acquisire nuovi ordini. Questi sono, perché questa cosa è nata un po' per gioco, questa cosa qua a dire, ma mettiamo le cose dentro, le promozioni, dentro le mail, poi con qualche cliente importante, gente che fa diverse migliaia di spedizioni al giorno, diverso, qualche migliaia di spedizioni al giorno, abbiamo deciso di cominciare, per scherzo, a mettere dentro, per scherzo, per test delle cose, e a tracciare veramente, quali erano i clic. Quello che si vince sono queste cose qua, che è totalmente gratis, perché la mail è gratis, questi signori hanno raccolto, solo mandando in mente a sazionale, avendo una page fatta un pochino carina, hanno raccolto un po' di ordini. E su questo sito abbiamo fatto un test, inserendo un buono sconto del 10%, cioè non è che ci siamo, abbiamo fatto in anni le ballerine, i video interattivi, con un semplice coupon di sconto, quindi immaginiamoci, e ci stiamo divertendo poi a fare un po' di esperimenti, se riusciamo a fare delle cose ancora più dirette, ancora più verticali, eccetera, eccetera. Qua voleva dire che contro i grandi, tipo Amazon, non bisogna spaventarsi, ma bisogna organizzarsi. Il mio socio è uno di quelli che va a fare un sacco di presentazioni, e io mi diverto, perché quando vado a vederlo, non solo lui, ogni anno c'è un trend, che è dire qualche frase, o qualche cosa, tipo, notte l'Oscar Wilde, l'anno scorso era quella della rana, quella della rana, che se la metti nell'acqua bollente scappa, ma se la metti nell'acqua che si scalda poco a poco non si accorge e muore bollita. Cioè ogni anno ci sono delle cose che vengono raccontate. Qualche anno fa c'era sta roba qua, che bisognava organizzarsi e non avere panico. Io non vedo l'ora di tornare a fare il mio bel codice nella mia caverna. Ovviamente più visitatori abbiamo, e abbiamo visitatori che probabilmente, se siamo stati bravi, durante questa comunicazione, arrivano sul nostro sito, più abbiamo i lead, più abbiamo i custom, e più la gente è contenta e dirà ai suoi amici vai a comprare là, è stato divertentissimo e durante la fase di consegna mi arrivano delle simpatiche mail che mi avvisavano ed è tutto arrivato in tempi brevi. Questa cosa qua vuol dire i punti che vi potete portare a casa come fosse un take away. È finito, mi avviso, è quasi finito. Lo dico anche per me. È finito. Allora, essere sempre un passo avanti al cliente, utilizzare la comunicazione per fare marketing in nuovi ordini, creare esperienza positiva nell'ultimo miglio, è un ottimo investimento, e soprattutto, come da foto della prateria, è un territorio ancora inesplorato, dove stiamo cominciando a fare i primi esperimenti, come fosse proprio una scatola di sabbia, dove stiamo facendo un sacco di esperimenti, anche perché stiamo mandando email e comunicazioni che la gente vuole ricevere, è divertentissimo. Non stiamo a pensare, facciamo il titolo con dentro, nel titolo i camioncini, o i razzetti, così uno ci cliccherà con le cose che vanno adesso. No, il tuo ordine, il tuo iPhone è in consegna, e dentro che cliccano, come se non vi fossero domani. Concentrati sulle cose che hanno più valore i vostri clienti. Ho finito, grazie. Grazie.